Un purè dell'agenda del Catania, abbiamo messo la possibile valutazione dell'offerta per Alejandro Martinuccio che è una rivelazione della Coppa Libertadores, il Catania ha offerto 2 milioni e mezzo per Martinuccio del Peñarol e da quanto ci fa sapere il nostro esperto di calcio sudamericano Rosario Triolo, Martinuccio è assolutamente un crack del calcio uruguayano e ovviamente ha 23 anni, è molto giovane e potrebbe arrivare in Italia, un altro sudamericano a Catania Alla fine sarebbe di casa, vogliamo vedere la giornata di martedì, no, questo è intanto anche il passaporto italiano, cosa da non sottovalutare Sì, ha fatto 9 gol in questa stagione, però ha portato anche il Peñarol alla finale di Coppa Libertadores, è assolutamente un giocatore interessante 23 anni, questo è martedì? Questo è martedì Prima di salutarti, continuiamo col filone sudamericano con il nome di Martinuccio per il Catania, arriva? Dovrebbe arrivare, nel senso che il Catania ha formulato un'offerta piuttosto importante per un giocatore che fino a poco tempo fa era sconosciuto Poi quest'anno invece nella Libertadores si è fatto valere, ha portato il Peñarol in finale di Coppa Libertadores Quindi è un giocatore assolutamente apprezzato dal Catania che ha chiesto informazioni, più che chiedere informazioni ha fatto una vera e propria offerta 2 milioni e mezzo al Peñarol, adesso il presidente del Peñarol da quanto ci fanno sapere tra oggi e domani valuterà questa offerta E dirà ovviamente sì o no al Catania, comunque la trattativa è aperta e quindi certamente è una pista percorribile con Martinuccio L'ennesimo sudamericano che potrebbe finire al Catania di Lomonaco che li sta trattando praticamente tutti in questi viaggi suoi in Sud America, Uruguay, Argentina, Brasile Sì, una vera e propria colonia, insomma si vede che anche tra di loro si parlano, sanno che lì si sta bene, si è creata questa piccola comunità e quindi si sparge la voce Grazie, grazie Emanuele Baiochini Grazie